Si chiama Da Cuore a Cuore, è una campagna di informazione sull'importanza del controllo del colesterolo e sull'importanza dell'aderenza alle cure. E' stata presentata oggi qui a Milano al Policlinico e noi ne parliamo con Paola Cocco, direttore medico di Novartis che è l'azienda che supporta questa bella iniziativa. Dottoressa Cocco, innanzitutto vi chiederei un commento su questa campagna che parte oggi qui da Milano e se ci spiega anche il nome che è abbastanza incuriosente. Da Cuore a Cuore è una campagna che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sia pazienti ad elevato rischio di eventi cardiovascolari, sia pazienti che purtroppo hanno già avuto un evento cardiovascolare per andare a valutare tutti quelli che sono i fattori di rischio e migliorare l'aderenza alle terapie che possono in qualche modo prevenire ulteriori eventi. Quello che potrebbe sembrare un errore, un errore molto anche grave insomma da penna rossa come si suol dire, è in realtà voluto ed è legato al fatto che il cuore a volte può non essere perfetto ma la nostro obiettivo insieme alle associazioni pazienti, alle società scientifiche e anche alle istituzioni è proprio quello di aiutare tutti i cuori a essere migliori. Siete a Cuore con la Cu, un errore gravissimo. Qual è l'errore gravissimo che non dovrebbe fare il paziente, soprattutto chi ha avuto un evento cardiovascolare? Purtroppo quello che ancora oggi è molto diffuso tra i pazienti è una scarsa aderenza alle terapie anticolesterolemiche. Noi stimiamo che circa il 43% dei pazienti non assegua quelle che sono le indicazioni date dal medico curante e questo ovviamente aumenta in maniera esponenziale il rischio che l'evento si possa ripresentare. Sento 90 in cardiologia è presente da molti anni, anche più di recente nella terapia del colesterolo con un'arma terapeutica molto efficace e avete un'attenzione particolare anche all'aderenza delle cure. Ci dice qualcosa? Sì, esatto, perché proprio in virtù del fatto che spesso l'aderenza delle cure è uno dei principali fattori che porta ad un ripresentarsi dell'evento cardiovascolare, per noi è fondamentale andare a ricercare tutte quelle opzioni terapeutiche che possano in qualche modo aiutare il più possibile a rimanere aderente alla terapia. Grazie a tutti!